Come tutti sapete mi candido sindaco di Taranto con il movimento Taranto senza Ilva, trasversalmente ai partiti, né centrodestra, né centrosinistra, né Movimento 5 Stelle. La priorità assoluta la questione ambientale, ma ci sono altre priorità. Vedi innanzitutto la vivibilità urbana, o meglio, dovremmo parlare di invivibilità urbana, viste le tante favole raccontate dall'ex sindaco Melucci, il quale parlava e parla, dice di aver seminato la rinascita. Siamo al quartiere Tamburi, in via De Vincentis. Il quartiere Tamburi è un quartiere purtroppo sfregiato, dimenticato, abbandonato. Oltre alla questione ambientale si aggiunge appunto la invivibilità urbana. A questo proposito ho al mio fianco Ugo Panariti, abitante del quartiere Tamburi, da anni, da decenni davvero impegnato in ambito sociale e sarà candidato con il mio movimento Taranto Senza Ilva al Consiglio Comunale. Allora Ugo ci hai chiamato qui questa mattina in via De Vincentis per rappresentarci questa situazione di assoluto degrado. Certamente, ti ho chiamato io stamattina per venire qui in via De Vincentis per fatti notare le prime problematiche del rione Tamburi. Strade e marciapiedi che sembrano un percorso di guerra. I cassonetti di mondizia così bruciati, siamo veramente messi male. L'ex sindaco dove dice che ha fatto la rinascita, ma del rione Tamburi non è stato fatto mai nulla. Noi dovevamo essere il gioiello della città in quanto, come tu vedi, di fronte a me abbiamo un mostro che qua sul rione Tamburi si è persa la vita di vivere e di tutto. Io cercherò nella candidatura come consigliere comunale del tuo partito Taranto Senza Ilva e ti ringrazio né destra né sinistra né cinque stelle, credo in te, nella tua personalità e ho deciso di mettermi a disposizione per gli amici del rione Tamburi in quanto io sono amico degli amici di tutti e per dare una piccola rinascita a questo quartiere Tamburi perché veramente siamo messi male come tu puoi notare, abbiamo i marciapiedi che stanno crollando, c'è gente disabile che non può scendere dalle proprie abitazioni perché c'è il rischio di cadere, non sappiamo più come comportarci. L'unico modo è entrare nella macchina amministrativa entrare nella macchina amministrativa perché io l'ho già detto, Taranto va rivoltata come un calzino, non è possibile vedere strade distrutte, marciapiedi che rappresentano un pericolo enorme perché considerate gli anziani, l'anziano cammina e puntualmente cade, per non parlare poi dei lavori realizzati dalle ditte che operano con le utenze private, Enel, Gas, Aquedotto e quant'altro, si sfreggia il manto stradale e poi non ci si degna neanche di riasfaltarlo, si lascia il cemento. Assolutamente, loro cosa sono venuti, cosa hanno fatto le loro tubazioni, hanno messo un po' così di breccia e se ne sono andati e io ho avuto anche i colloqui conditte dove mi è stato detto che sarebbero venuti a fare il manto stradale in quanto non c'è nessun responsabile del comune, ex sindaco che veniva a controllare i lavori, purtroppo fanno tutti come cavolo vogliono loro. Quindi io da sindaco farò girare, farò correre funzionari e dirigenti dei vari settori preposti, dei lavori pubblici, perché non è possibile che una ditta viene, sfregia quello che è il patrimonio dell'ente comune, strade e marciapiedi appartengono al comune di Taranto e poi i controlli o evidentemente vengono fatti male o evidentemente non vengono fatti. Perdonami, non vengono proprio fatti. Perché alla fine non è possibile che una ditta possa sfregiare, ma non è solo qui al quartiere Tamburi, è in tutta la città e allora, scusate, le ditte che fanno questi lavori vengono prese per le orecchie e si insegna loro come si lavora. Questa è l'idea che ho di una Taranto che, lo ripeto, deve essere rivoltata come un calzino. Per questo ci siamo noi, per questo mi candido sindaco, per questo c'è il movimento Taranto senza Ilva, difesa dell'ambiente ma non solo, anche e soprattutto difesa della qualità della nostra vita attraverso la vivibilità urbana.